All'inizio era molto difficile, qua per me, venendo da un infortunio, non è che io ho fatto tante partite in Serie A venendo qua, ho fatto 5 presenze con una squadra come l'Inter, che comunque era sempre lei la padrone del campo, e poi venire in una piazza come Bologna, che comunque è una squadra media, diciamo che non era facile, poi da un infortunio, adesso certo l'anno scorso quello che è capitato è capitato, ma piano piano quest'anno mi sto riprendendo. Giocando a due, secondo me, tutti e due c'è una pista, devono fare tutte e due le fasi, perché è difficile, poi dipende da che parte da chi amo, uno si inserisce, certo che magari Diego rimane un po' di più, perché è più il suo gioco, quindi se gioco con Diego magari mi inserisco un po' di più. Diego ormai c'è non solo per me, ma per tutta la squadra, è un trascinatore, come un altro capitano in campo, quindi una figura fondamentale secondo me per la squadra, non solo per me. Come ha detto anche il mister, se Gila faceva gol lì al Napoli, che era regolare, poi tutti parlavano diversamente, è un giocatore importantissimo per noi, che fa salire la squadra, che dentro l'aria è un punto importantissimo per noi, prima o poi secondo me i gol arrivano. Ha già fatto i gol importantissimi, ricordiamoci che quando eravamo nel momento molto brutto, era lui che ha fatto il primo gol con il Palermo e ci ha tirato fuori. Sicuramente non si guardano solo i gol, perché il lavoro che sta facendo per la squadra, secondo me è fantastico. Ma secondo me anche se adesso avremo più punti, comunque dovevamo sempre giocare nella stessa maniera, ogni partita a cercare i punti. Quindi non è che hanno sforzo, già a Gennaio eravamo tranquilli, quindi certo che le partite pesano magari un po' di più adesso con tutte le squadre lì. Siamo molto attenti anche agli altri risultati, guardiamo sempre con attenzione, perché quest'anno ci sono tante squadre buone che sono lì. Siamo lì anche noi, quindi è molto importante. Anche il pubblico ci è sempre stato accanto, come ha detto il mister, perché abbiamo sempre dimostrato spirito e abbiamo sempre fatto le prestazioni. Noi ci siamo e secondo me in avanti possiamo fare molto bene, sicuramente stare più attenti con i dettagli. Adesso ci sono per noi come due mister diciannove finali, quindi non guardiamo adesso davanti chi c'è dopo, ma guardiamo solo il Chievo. È l'unica partita che esiste per adesso, per noi. Sicuramente non ci capiteranno tante occasioni di gol, sono quelle mezze pale che dovremo sicuramente sfruttarle. Sì, è sempre la solita squadra che lotta su ogni palone, sulle seconde pale, davanti sono molto bravi, tutti compatti, quindi sarà una partita tosta.